...in formati Luigi Angeletti, dice Monti, non è che ha ragione solo la CGL che ci pensa solo ai lavoratori, anche noi abbiamo portato un testo pensando che possa far bene alla disoccupazione. Ci dice intanto, partiamo da zero, che è successo oggi pomeriggio, questo accordo c'è, non c'è, chi è contro? C'è la CGL contro tutti gli altri o no? Allora, in primo luogo il Presidente del Consiglio ha spiegato che il suo referente è il Parlamento, quindi non avrebbe voluto nessun accordo con le parti sociali perché chi decide per il governo è il Parlamento. Le parti sociali dovevano fornire delle valutazioni, delle proposte, delle opinioni, dei giudizi, il governo ovviamente avrebbe preso atto di queste valutazioni, di questi giudizi, poi il governo avrà la possibilità e la decisione di fare un provvedimento legislativo che presenterà in Parlamento e il giudizio del Parlamento è per il governo e per la missione del Presidente del Consiglio l'unico giudizio che conta. Questo l'ha detto subito appena siete arrivati? Sì, sì, anche questa mattina che ci siamo visti in una forma, diciamo così, più ristretta. Quindi avevate un ruolo consultivo. Esatto, ma hanno sempre usato la parola dialogo, questa non è una trattativa, questo è un dialogo tra noi e le parti sociali. Nel merito, che poi è la cosa che interessa più di tutti, al di là di aspetti politici che interesseranno una parte assolutamente minoritaria delle persone, noi abbiamo in Italia ogni anno del 2011 800.000 persone con contratti di collaborazione coordinata continuativa, 6 milioni di persone con contratti a termine. Sono sempre gli stessi che rinnovano i contratti, a due mesi, a tre mesi, a cinque mesi. 6 milioni. Più un numero impossibile da stimare di lavoratori dipendenti a cui viene chiesto di fare la partita IVA, pur essendo dei lavoratori dipendenti. Voi non vi stupite ma ci sono operai nell'edilizia, operai nell'edilizia o commesse nei supermercati, in cui il datore di lavoro gli dice scusa vuoi lavorare? Apri la partita IVA. Per ovvi motivi, si pagano meno contributi, il salario non è definito da nessuna parte, eccetera eccetera. Questo è per noi il cancro del nostro mercato del lavoro. Ma questo accordo così? Questo accordo, questo accordo, esatto. Questo accordo, se verrà applicato, oltre che essere radificato dal Parlamento, ridurrà fortemente questa situazione. Perché l'accordo prevede che si presume che quella non sia una partita IVA legittima, ma sia un lavoratore dipendente, se quel lavoratore per esempio lavora nel luogo di produzione o di servizio del datore di lavoro insieme ad altre persone che sono dei lavoratori dipendenti. Allora Angeletti mi aiuti, diciamo, primo ne tiriamo fuori, ne evinciamo che il suo giudizio sul testo finale è positivo. Su questa parte, poi sono cose su quali non siamo per nulla d'accordo. Sulla parte dei contratti attivici, diciamo. Però questo era il nostro problema fondamentale. Allora questa parte lei la valuta positivamente perché? Perché vengono ridotti di numero e vengono... Esatto, viene potenzialmente eliminata tutta quella forma di precarietà che va sotto queste forme contrattuali e qui si abusa ovviamente, per cui per esempio i contratti a termine, così come noi chiediamo da una vita, costeranno di più dei contratti a tempo indeterminato, incentivando quindi le imprese a cercare di scegliere il contratto a tempo indeterminato perché quello a contratto a termine costa di più. Mi dica su questo cartello 19... No, c'è un altro aspetto importante che ovviamente non possono essere reiterati più di 36 mesi, dopodiché bisogna assumere il contratto a tempo indeterminato. Ci dica se queste cose che abbiamo messo nel cartello 19 sono passate. Contratti a termine per massimo 36 mesi, poi c'è l'assunzione obbligatoria, giusto? Sì. Partite IVA con un unico committente, quelle di cui parlava lei, le partite IVA finte che sempre vengono richiamate a fare lo stesso lavoro, sempre per la stessa ditta, c'è l'obbligo di assunzione dopo sei mesi. Sì. Esclusi gli iscritti agli ordini però, quelli possono... Quelli che sono delle partite IVA è ovvio, ci stanno i professionisti veri. Va bene. Quest'ora vediamo perché uno dei punti invece in discussione era questo, dice beh a me mi fanno prima iscrivere all'ordine e poi mi rifanno lo stesso contratto. Giovani, apprendistato, contratto prevalente d'ingresso, solo fino a 29 anni, giusto? Giusto. Cioè, si fa in modo che le aziende siano portate a fare contratti di apprendistato basta che si abbia meno di 30 anni, giusto? Sì. Stretta su alcuni contratti tipici, Cocco Pro, associati in partecipazione, questi vengono ridotti ai contratti di cui abbiamo parlato. Gli associati in partecipazione che la stragrande maggioranza dei cittadini non sa è un vero e proprio truffa, secondo noi invece vengono proprio aboliti. Aboliti. Questo è il capitolo contratti, capitolo ammortizzatori, le chiedo di essere un po' sintetico perché poi torniamo su tutti gli argomenti. Questa è la parte più in cui ci porta le notizie fresche. Cartello 18. Allora, gli ammortizzatori. Dal 2017 nasce questa nuova indennità di disoccupazione chiamata ASPI, assicurazione... Com'è? Assicurazione... Per l'impiego. Per l'impiego. Servono due anni di anzianità per accedervi e si possono ottenere massimo 1119 euro, giusto? Sì. Servono due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro per potervi accedere. Se perdi il lavoro... E in proporzione all'anzianità di servizio. Cassa integrazione rimane quella ordinaria, viene ristrutturata la straordinaria, giusto? No. Rimane quella straordinaria. Rimane anche la straordinaria. E quella ordinaria cambia nome. Quella ordinaria cambia nome, vabbè, questo diciamo è così, tanto per cambiare. Chi resta fuori? I collaboratori, i lavoratori a progetto o finte partite IVA, è vero? Non potranno accedere a questi contratti? C'erano due scelte, che chiarisco subito. Per esempio, dobbiamo garantire la indennità di disoccupazione a tutte le partite IVA, il che significa che un professionista normale che fa la partita IVA, nel caso in cui lavora di meno gli diamo l'indennità di disoccupazione e io avrei qualche problema. Quindi la scelta è di dire che tutti quelli che sono dei lavoratori dipendenti vengono tolti dalla partita IVA e a quel punto gli si dà l'indennità di disoccupazione. Allora, su questi due capitoli mi sembra di capire che lei ci sta. Sì. Articolo 18 e siamo al cartello 17. Cosa prevede l'articolo 18 oggi? Obbligo di reintegro per licenziamento senza giusta causa. Punto e basta. Cioè, se non è un licenziamento per giusta causa, devi essere reintegrato immediatamente. Dice il governo, licenziamenti discriminatori, obbligo di reintegro. Cioè, ti caccio perché tu la pensi in un certo modo? No, devi subito essere riassunto. Licenziamenti disciplinari. Sarà il giudice a decidere tra reintegro e indennizzo. Cioè, se ti devo riprendere o se ti devo pagare con un tot numero di mensilità. Mi pare che il governo abbia detto 27, giusto? E questo era l'opinione del governo fino ad oggi. Adesso, ovviamente, il governo ha dovuto o voluto. Cioè, noi gli abbiamo chiesto che questo è il vero punto importante nell'articolo 18. Perché i licenziamenti discriminatori, nell'esperienza concreta, devono licenziare una donna di colore incinta. Allora è facile dimostrare che c'è stata una discriminazione. Se no, in tutti gli altri casi è obiettivamente complicato. E infatti nessuno licenzia per dicendo che è discriminatorio. Il vero punto è il licenziamento disciplinare. Cioè, viene accusato di aver violato una regola contrattuale. E quindi ti licenzio. Questa cosa, ci abbiamo impiegato un sacco di tempo per spiegarla, non c'entra nulla con la flessibilità. Perché attiene ai rapporti di potere tra l'impresa e il lavoratore. I rapporti di potere, chi comanda, quali sono i livelli di arbitrarietà che ha l'imprenditore nei confronti del dipendente. Mi dice come è andata a finire. E' andata a finire che in caso che il giudice decide che ovviamente non c'è stato motivo, nel senso che non si è commesso il fatto, o se si è commesso, se è stato di una entità inferiore a quella prevista dai contratti nazionali, che regolano la discipline, i doveri dei lavoratori, il giudice ha una sola chance, reintegrare. Si reintegra solo se si rientra in questa fattispecie. E poi c'è il punto dei motivi economici. Esatto. Sui motivi economici noi avevamo proposto che fosse il giudice a scegliere. Il governo dice no. Per motivi economici io ti posso licenziare e ti indenizzo con 27 mensili. Esatto. Noi abbiamo detto ok, subiamo, perché questo si tratta poi di appelli del Presidente della Repubblica che bisogna fare accordo, ti sembra che tutto il mondo caschi sulle nostre spalle, abbiamo detto benissimo, però bisogna evitare che l'impresa abbia la possibilità di strumentalizzare, cioè di usare l'argomento economico come un paravento dietro il quale invece colpire per motivi di simpatia. Allora, accertiamoci che siano motivi economici. Come abbiamo risolto questo problema? Dicendo che l'azienda è obbligata ad informare i rappresentanti sindacali della oggettività, cioè del fatto che effettivamente ha modificato l'organizzazione del lavoro, non c'è più il lavoro per quelle persone e ovviamente questo da griglia impedisce che si possa utilizzare questo strumento per i motivi altri che di questa cosa qua. Su questo invece la CGL ha detto no. Su questo la CGL ha detto di no.